Buonasera, mi regalate un sorriso per poi ci danno un uso? Agatini, girate le facce perché sennò non chiamo più. Mai fidarsi di un cuoco magro, capite perché Agatini dà la misannanza a tutti? Ma voi la conoscete Agatini? Eccomi sto pagherino che venga in dubbio a cantare la luce. Perché lei non vi conosce. Mi volete presentare queste maestre pizzaiole? Che quante? Il nome e il cognome? Il nome è il cognome. Giovanna, Rosa, Fortunata, Gilda, Agata, Rosalia, Maria. Maria? Anna. È un esercito di cuoche che potrebbe sfamare un esercito di affamati. Sono tutto cresciuto, qualcuno è venuto più ammazzare. Sono tutto cresciuto. Sì, però io non la prendo. Io voglio appena esciare in DL perché... Auguri, grazie. Grazie a voi.